Allora, tutti credono, grazie ai film, di conoscere che cosa è il Kung Fu, ma noi siamo andati a chiederlo ad un grande maestro che è stato in Italia per vent'anni e ritorna regolarmente in Italia e dà la sua scuola anche qui in Italia. Siamo andati a chiederlo al maestro Zan Dugan. Buongiorno maestro. Buongiorno. Il maestro Zan Dugan vive a Shanghai dove ha tutta la sua famiglia ma è stato per vent'anni qui in Italia e torna, come dicevamo, regolarmente a insegnare per tutta Italia. Innanzitutto maestro, cominciamo col chiarire questa cosa perché ci sono i film e c'è il Kung Fu. È la stessa cosa? Che cos'è il Kung Fu? Questo come Kung Fu, veramente film fatto qualche cosa per tutto il mondo conoscere che cosa è il Kung Fu. È una cosa buona. Però da altra parte forse anche qualche cosa non molto completo. Perché noi oggi, come visto Kung Fu, quasi tutto sulla film. Invece non tutto velo. Il film si vede bellissimo. Poi il velo Kung Fu veramente è molto semplice. È stanco, sudore, lavoro. Non così tantissimo come Kung Fu. Però il film veramente ha fatto conoscere questa cosa. Quindi oggi, perché io dico buono? Perché tutti conoscono cosa è Kung Fu. Però qualche cosa non va bene perché oggi più è per bambini. Loro non sanno è vero Kung Fu come. Quindi per loro film è Kung Fu. Quindi può essere qualche cosa portato a bambini. Va una strada non più come giusto. Quindi tantissime persone, anzi oggi anche Cina, tante persone indresa come film. Quindi fa indresa movimento solo per una bellezza. Però, attento, questa bellezza non è bellezza di velo Kung Fu. Bellezza quasi più vicino come danza. Quindi solo per vedere, non per usare. Quindi per usare è un Kung Fu. E c'è altro bellezza. Quindi bellezza per usare. Quindi oggi noi, visto questa bellezza, non posso dire 100% per vedere, ma 90% per vedere. Per usare è pochissimo. Io dico per usare è per due cose. Prima cosa, inizio prima, tanti anni fa è Kung Fu quando è nato. È veramente per combattere. Per la guerra. Ma oggi, più avanti, c'è altro cosa dobbiamo capire. Anzi, forse è più importante. Perché oggi, prima pensare come salute. Come salute. Perché come storia di Kung Fu, noi Cina, io non so, altro paese come, persone bravo, bravo, quasi pochissimo lungo vita. Quindi tantissime persone è a morire presto. Per esempio, qualche famoso, anche più famoso è Bruce Lee. Bruce Lee è arrivato a 33 anni. Secondo me tantissimo, mi dispiace per questo. Lui è veramente bravo persone, bravo attore. Però, per questo fatto famoso, fatto tante cose, è arrivato così giovane. Secondo me non è una cosa buona. Anche non è una cosa come Kung Fu. Secondo me non completo. Quindi completo, bisogna aggiungere una cosa più importante di tutti. È per la salute. Per si può vivere in più. Allora, questo è un Kung Fu più giusto. Quindi oggi noi, visto quel film, questa cosa, quasi non c'è. Però anche non c'è per usare. Secondo me, oggi, visto quello, tutto per vedere. Quindi velo per usare, usare per la salute e per la difesa. Questi due motivi. Quindi noi dobbiamo capire, più per quelli giovani, far loro capire cosa è Kung Fu. Film fatto bene solo per conoscere questo nome. Si chiama Kung Fu. Però velo, film non fatto tutto per conoscere. Quindi secondo me, film fatto bene, anche qualche cosa non fatto bene. Forse tante persone non piace la mia parola, però io parlo con cuore. Va bene. Film fatto conoscere vestito del Kung Fu. Ma dentro vestito c'è un corpo molto più... Sì, 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 sì. Come vestito. Vestito cambia le colore, sembra. Cambia il modello. Però corpo sembra uno solo. Corpo dentro è più importante. Oggi persone viste solo fuori, non viste dentro. Allora fuori, che cosa? È quello film. Quello dentro, oggi persone, non tanto attento. Quindi, quasi, oggi ho perso tantissimo quello originale, tradizionale. Secondo me è così. Maestro, tu da chi hai imparato? Io, da mio maestro, si chiama Wang Hanzi. La mia linea, come mio stile, si chiama Ba Gua Zhang. Ba Gua Zhang viene da quello più o meno 150, 160. Mi pare, 1850, più o meno quello periodo. Ora, forse, 180 anni fa. Fondatore si chiama Dong Hai Quan. Poi, dal suo allievo, comincia, piano piano, arriva a me, è arrivato a me, è già arrivato a sesto. Quindi, prima, Dong Hai Quan. Secondo, Yin Fu. Terzo, Kung Pao Tian. E quarto, Wang Zhuang Fei. Quinto, è mio maestro, Wang Hanzi. Io sono del sesto. Questo come nostro, questa linea. Io faccio questo stile, si chiama Ba Gua Zhang. Io ho imparato dal mio maestro, anche dal quarto, quello di Wang Zhuang Fei. Wang Zhuang Fei è padre di mio maestro. Quindi, io chiamo lui nonno. Quindi, io ho veramente imparato da queste due persone. Più o meno come è così. Ecco, maestro, c'è una cosa che mi ha colpito molto. e non solo me. Tu sempre, prima, parli di tuo maestro e di suo padre. Perché questa cosa? Tu hai anche sempre portato un grande rispetto in Italia per queste persone che in Italia sono state conosciute attraverso, anche attraverso tua parola e tuo insegnamento. E sempre tu dici questo è importante, sempre Pushao. Cos'è questo Pushao? Questo è come una virtù di cinese come tradizionale. Io ho veramente da piccolo già imparato dal mio padre. Mio padre dice un uomo come una persona vivere sulla questa tela sotto cielo. Prima cosa importante noi si chiamiamo Xiao. Xiao che significa? Significa rispetto due persone. Uno genitore. genitore perché loro hanno fatto il mio colpo e due e maestro perché il maestro ha insegnato a me come posso dopo come posso vivere. Quello insegna a me quello come vivere. Quindi dato questo colpo noi cinesi si chiamiamo Xian Tian già prima già c'è non si può cambiare. Invece il secondo si può cambiare. Tu puoi scegliere cosa studiare. Poi la tua strada cosa succede dopo. Quindi io devo graziare e grazie il mio maestro perché lui ha insegnato a me ora diventa come come colpo bene come imparato tante cose per il futuro. quindi io tutto vita bisogna graziare queste due come persone. Quindi io devo graziare il genitore primo poi maestro. Per questo io voglio questa virtù sembra da me e ancora si può continuare. Quindi per questo io parlo con i miei studenti poi dopo possono essere anche i miei allievi io voglio loro anche rispetto questo più o meno per questo questo noi cinese si chiama Xiao tu poco fa detto quello Xiao significa non rispetto purtroppo oggi questo mondo sembra successo questa cosa tantissime persone imparato poi dopo non più rispetto perché loro serve solo per lavoro non c'è graziale questa cosa oggi tantissimo però io sono fortunato miei studenti più italiani tantissime persone veramente benissimo io sono contentissimo io sono contentissimo anzi io sono fortunato noi Cina oppure altri paesi ci sono persone non così quando loro vogliono imparare una faccia sembra ridere dopo imparato cambia subito questo per noi come tradizionale si chiama Xiao non so se è spiegato o no perfettamente e c'è una parola anche che tu sempre aggiungi nel o ti ho sentito sempre aggiungere nelle le tue lezioni tu sempre dici io tutti chiamano te maestro portato questa quest'arte in tutto il mondo e ti chiamano tutti maestro e tu sempre dici non sono maestro sono uno studente come voi perché questo questo ancora una come come culturale anzi virtù di cinese tradizionale perché io da piccolo sembra mio padre così insegna a me una persona quando è nato fino in vecchio sempre deve studiare quindi non c'è finale per studiare solo c'è inizio e non c'è finale per questo io ricordo sempre anche io vado fuori per insegnare io sempre spiego io con voi insieme studiare io sono poco poco più prima di voi non perché io sono maestro quando è arrivato maestro significa lui già imparato tutto quindi significa questa persona è già fermo io non voglio fermo io voglio sempre avanti quindi io voglio sempre oggi meglio di ieri e domani meglio di oggi quindi sempre avanti così tu diventa sempre più bravo quindi per noi anzi il nostro stile di non c'è finale quindi non come scuola c'è diploma laurea cosa veramente tradizionale non c'è questa cosa perché lui ogni giorno sembra meglio di prima però va bene oggi come scuola forse serve qualche carta per spiegare solo lui quanti anni studiato non significa lui arrivato a quale punto secondo me è così per questo io arrivavo ogni posto io parlo sempre studiamo insieme perché io sono studente angola solo un po' prima di voi è così maestro tu hai portato in tutto il mondo lo stile pakua zang che cosa di particolare questo questo kung fu questo stile per questo stile io devo parlare io da piccolo perché il mio corpo da piccolo sembra molto debole perché io sono questa famiglia sono unico maschio per cinese tradizionale maschio importante per una famiglia per questo mio padre molto preoccupato sembra cercare qualche aiuto per diventare più forte perché io piccolo sembra male quando fuori c'è malattia io sembra prendere prima per questo mio padre cercare cercare io sono molto fortunato e trovato maestro questo maestro si chiama Wu Liang Fa e lui è allievo di Wang Zhuang Fei poco fa io ho detto Wang Zhuang Fei chi è e lui è un molto bravo allievo di Wang Zhuang Fei quindi noi io con mio padre anche mio zio inizio imparare da lui poi fra qualche mese è conosciuto un'altra persona si chiama Wang Han Zi dopo io ho capito questo Wang Han Zi è figlio di Wang Zhuang Fei quindi quando loro ho visto me ho visto io debole però io colpo debole il mio testo ancora funziona bene perché memoria buona quando loro insegna io imparare subito poi loro visto me debole cominciano tutti e due insegnano a me così io imparare da Wang Han Zi da là io ho capito tante cose perché lui spiega tantissimo come teoria da là io ho capito questo si chiama Pakua Zhang Pakua è uno stile viene da Yi Jin Yi è come cinese è una una come io non so come spiegare per italiano come una cosa molto molto come filosofia scienza tutto cosa è molto completo sì un libro di sapienza sì un libro di sapienza in Cina è numero uno più prima di tutti è questo si chiama Yi e questo Yi è dentro è imparato tante cose teoria da là e poi cresciuto questo stile quindi questo stile veramente in Cina questo stile è molto giovane io dico questi giovani per stile tradizionale non oggi noi visto quello film quello stile moderno stile moderno noi quello di solito noi non parliamo quello di arte marziale parliamo una cosa di nuovo solo per come ginnastica invece stile tradizionale e ci sono altri stili per esempio Xing Yi per esempio Shaolin poi Pacua questo tutto in Cina come stile grande in Cina come arte marziale stile ci sono più di 300 tantissimo però per noi tutto come piccolo stile più grande come Shaolin come Xing Yi accedere poi Pacua Pacua è uno stile più giovane di tutti a fine ora solo 170 180 anni di storia quindi per tradizionale è più giovane quindi significa anche questo stile più completo più completo poi quello periodo in Cina come nord di Cina Pechino come capitale dinastia Qin dinastia Qin come imperatore loro quasi come comanda tutto Cina e invece questo stile di Pacua invece dentro di questo dinastia Qin come come dice quello di la città proibita dentro la città proibita e guardia loro per forza devono studiare questo stile perché è molto importante per guardia per imperatore anche per tutto dinastia Qin quindi in quello periodo si può dire Pacua è più avanti è più completo anche più forte tu dici questo stile è così importante che anche imperatore studiava e anche guardia di imperatore studiava sì sì imperatore anche imparare Pacua per loro non per combattere loro per salute loro per salute in Cina c'è una donna molto famosa quella prima moglie di imperatore poi diventa madre di imperatore poi sempre lei comanda questa donna si chiama Zixi lei anche interessa di fare Pacua per salute a suo guardia vicino c'è una persona bravissima si chiama Kung Pao Tian questa persona è nostra linea io poco ho detto poco fa detto è terza linea prima fondatore secondo Yin Fu è terza questa persona si chiama Kung Pao Tian lui è allievo di Wang Zhang Fu è mio nonno maestro questa persona è in Cina molto famoso famoso anche bravo e suo maestro Yin Fu proprio insegna imperatore quindi questo stile è buono per questo io fortunato è iniziale imparare altimaziale è questo stile per questo io fine ora non voglio cambiare perché io non visto altro stile meglio di questo io non voglio dire altro stile non buono solo io sento questo stile non bisogna cambiare quindi è troppo buono per me per questo io penso questo veramente anche viene da mio padre quando c'è una cosa buona non solo prendere bisogna dare tutti più persone conoscere e questo buono si può serve bene per più persone anche per questo io voglio portare questo stile va più posti come se è possibile tutto il mondo si fa questo stile io ancora più contento credo credo che faccia parte di tutti dei motivi per cui tu dappertutto sei conosciuto per la tua virtù allora che posto occupa la virtù nelle arti marziali virtù dell'arti marziale quasi ogni stile dicono noi si chiama wu te u è arti marziale te è come virtù quindi ogni stile dicono questa cosa quasi più o meno sembra uguale bisogna rispetto anziani aiuto debole contro cattivo quindi questo sembra uguale noi cinesi più o meno io perché ci sono tanti da confucio fino ora ci sono tanti però io ricordo più questo quattro uno si chiama zung che cosa è zung zung significa tu devi tutto cuore per tuo gruppo che significa tuo gruppo più grande quando più grande che cosa è tuo stato per esempio io sono cinese io devo sembrare dentro c'è mio stato come io oggi sembra stato Italia 20 anni d'Italia quindi Italia anche dentro del mio cuore quindi questo si chiama zung quindi quando c'è problema per Cina io devo fare tutto corpo tutta vita per fare questo stato bene per tutta vita per questa Italia bene quello più piccolo che cosa è come nostro gruppo pacqua gruppo di pacqua questo noi si chiama zung quando io faccio questo stile allora io devo fare tutta la vita bene voglio bene questo stile questa prima cosa poi la seconda cosa è xiao xiao è rispetto rispetto a quel livello più alto di me per esempio genitore maestro fratello maggiore solella maggiore quello più grande di me io sembra di bisogno rispetto loro aiuto loro non fa male loro grazie loro quindi questo noi si chiamano xiao poi altro si chiamano jeng jeng significa amore bisogna dare amore oggi io ho visto persone parlare sempre amore amore veramente io non molto d'accordo per me amore cosa è dare non prendere quindi sembra dare quindi per tutti quindi questo come noi si chiamano poi quanto si chiamano i i che significa come amicizia fa bene per amici per parenti per tutto quello io conosco o anche quello non conosco quindi bisogna fare bene se io ho visto qualche cosa non buono non giusto sulla strada io devo uscire per aiuto quello debole per difesa questa cosa quello noi si chiamano i c'è amico c'è problema io devo cercare di aiuto tante cose sempre dare uguale come quello prima quello di amore uguale noi quasi difficile solo per prendere noi prendere solo da genitore da maestro quello prendere tecnica prendere per dopo si può dare a questo più o meno una persona è fatto marziale bisogna pronto questa cosa quando tutto bene questa cosa maestro deve insegnare questo allievo diventa bene quindi noi non subito prendere allievo prima da studente dopo qualche anni anzi tanti anni poi capito questa persona veramente come virtù buono virtù di altimaziale anche buono allora dopo questa persona diventa allievo quando diventa allievo allora questo maestro deve dare tutto a lui perché lui sicuro dopo imparato tutto solo esce una cosa bene per tutti se quella persona è virtù non buono noi dare tutto cosa a lui lui dopo fa cattivo è peggio di quella persona normale quindi per maestro molto importante per scegliere un allievo se lui non attenta questo maestro non giusto maestro giusto deve scegliere un allievo prima bisogna vedere lui come virtù noi si chiamiamo utra virtù bene dopo insegnare a lui quella cosa per far bene per tutti per futuro quindi per me ora io veramente non posso dire io sono maestro però io piano piano più avanti io devo insegnare quello più giovane far loro capire questa cosa ultimo anche io devo prendere allievo così si può continuare una cosa buona se tutto mondo è buono è bellissimo questo mondo speriamo di sì grazie maestro in tutte queste virtù di cui hai parlato c'era sempre come tu stesso hai detto sempre prima dare sicuro se tutti prima danno qualche cosa non manca niente a nessuno c'è tutto per dare questo mondo non è bello certo certo quindi io spero di questo quindi se tu puoi dare tu vuoi dare però se tu non c'è cosa dare allora come fa allora tu cosa fai tu devi imparare imparare da chi da maestro allora bisogna rispetto quindi una cosa giusto per tutti quando io ho imparato io devo cercare di dare non imparato solo serve per me ma oggi ci sono persone imparato serve per lui perché imparare solo per dopo un lavoro per guadagnare per cosa si guadagnare io non vuole dire guadagna sbaglia per vivere bisogno guadagnare però anche non devi dimenticare questo per dare ci sono persone veramente ancora imparate poco anzi tante cose non giusto però lui già comincia insegnare però attento suo insegnare non per dare è per prendere insegnare deve essere per dare invece insegnare ancora per prendere allora questa persona virtù manca qualche cosa bisogna sistemare quindi per questo un maestro ultimo prendere allievo bisogna stare molto molto attento attento per dopo veramente anche questo maestro anche per questo maestro per allievo buono anche maestro dopo suo nome e più persone ricordare se allievo cattivo allora questa persona dopo suo nome ricordare per cattivo quindi un maestro giusto non vuole allievo diventa cattivo e io penso che anche importante ricordare maestro dopo quanto tempo tu sei diventato allievo del tuo maestro Wang Han io con mio maestro tantissimi anni io da 1970 io ancora 12 anni comincio a imparare da lui lo stesso periodo anche imparato da suo padre come mio nonno io tantissimi anni io sempre voglio diventare suo allievo poi sempre non arrivato a quel punto finalmente arrivato 2007 io ho fatto cerimonio quanti anni allora dopo 37 anni dopo 37 anni io divento allievo quindi ora io sono suo allievo ecco maestro questa cerimonia è difficile anche capire per la società occidentale che cosa succede in questa cerimonia è un po' come un matrimonio come prendere un figlio per noi se prendere un allievo come figlio uguale tradizionale io dico tradizionale oggi moderno non si sa prendere allievo può essere anche per l'economia però tradizionale no quando allievo uguale come figlio se c'è qualche cosa bisogna parlare cosa c'è figlio c'è anche allievo quindi allievo per maestro uguale come padre noi c'è una parola antica si chiama un giorno diventa maestro e tutta la vita diventa padre se tu hai imparato perché tu hai imparato tecnica serve tutta la vita quindi diventa allievo non è facile non solo come comincia come prendere una cosa di certificato e basta noi di solito appena cuore non si può non si può come scherzare un gioco non è così quindi è più di un matrimonio perché il matrimonio è tutta la vita quindi quando io in Italia insegno c'è qualcuno anche chiesto a me io posso diventare allievo io ancora non posso rispondere a questa domanda perché io con te ancora ho conosciuto poco io non conosco te come anche tu non conosci me come non significa tutto maestro sono buono ci sono maestri anche veramente non buoni ci sono tanti questo va bene non vuole dire troppo perché oggi maestro troppo maestro troppo quindi poi non contento brutto va bene io indresa solo il mio gruppo io indresa sono miei studenti io ho ancora fa loro crescere io dalle sole dalle acqua fa loro crescere un giorno loro divento mio allievo io contento grazie maestro io penso che ci hai portato veramente degli insegnamenti e dei contributi importanti anche per capire veramente come può essere vissuto questo dall'altra parte del mondo e come possono essere diverse certe parole ad esempio il significato della parola maestro e della parola allievo quindi te ne ringraziamo ringraziamo il maestro Zandugan e Liberi TV per questa grande occasione grazie maestro e arrivederci prego arrivederci grazie a tutti